Allora riprendiamo questo esercizio provando a darci delle risposte e contemporaneamente cercando di capire meglio il problema. Allora noi innanzitutto proviamo a formalizzare meglio cosa vogliamo ottenere. Quindi noi vogliamo costruire una funzione che riceva come argomento una lista e cancelli da tale lista gli elementi più brevi di una lista di stringhe, che cancella tra gli elementi gli elementi più brevi di una certa soglia, va bene. Dove le parole chiave sono cancelli da quella lista lì. Voglio che quella lista che mi viene passata da un'altra parte del programma venga modificata, venga trasformata. La funzione quindi non ha bisogno di restituire nessun risultato, perché modifica già la lista che ha ricevuto come parametro, come argomento. Per questo non abbiamo messo nessun return. Questo era quello che volevamo fare, ok? Questo vuol dire che dall'interno della funzione, no, questo è quello che vogliamo ottenere, vuol dire che dall'interno della funzione la parole, la variabile parole, nasce grazie del meccanismo di chiamata, è un alias, come un alias alla lista che dobbiamo modificare. Ok? Quindi attraverso questo alias possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo alla lista. Non vogliamo, non possiamo, non ci conviene modificare il valore di questa variabile, perché quello che abbiamo fatto sotto, che sembrava una buona idea, perché abbiamo tra l'altro preso da un programma che funzionava, è come se io facessi qua parole uguali 7. Così. A muzzo. Capite che se io vedo scritto parole uguali 7 qua, io dico 7, ma sei pirla, perché hai ricevuto un alias alla lista su cui devi lavorare e poi il 7, che vabbè sarà un valore importante, ma me lo metti tra tutte le variabili di questo mondo, me lo devi mettere proprio in quella variabile lì? Se io faccio parole uguale 7, da quel momento in avanti ho perso l'unica informazione che avevo che mi permetteva di arrivare alla lista di numeri di modificare. Perché ho preso quella variabile lì che nasceva come alias e l'ho modificata. Legittimo, lecito, ma non tanto furbo. Quindi qua ho perso l'alias. Assegnare un nuovo valore al parametro di una funzione si può fare, è una variabile locale, ma sappiamo che la conseguenza è perdere l'alias e quindi il riferimento al valore iniziale. E quindi capite che da qua in avanti, qualunque cosa faccia questa funzione, non c'è più nessuna speranza che mi vada a modificare la lista di partenza. Ecco, anche qua è la stessa cosa. Non è 7, ma è un'altra cosa. Guarda, sono ancora più pirla, perché non solo gli ho sognato un 7 che sarebbe un valore che non c'entra niente. Gli assegno un valore che guarda caso era quello giusto, ma lo assegno al posto sbagliato. Non lo vado a mettere al posto della lista usando l'alias per andare a modificare la lista, ma ridefinisco la variabile. Ricordiamoci che nelle funzioni entrano ed escono valori, non variabili. Le variabili sono solamente i nomi temporanei che mi permettono di arrivare a un valore. Questo è il modello che ha tutto Python. Ok? Quindi se io voglio che una funzione modifichi gli elementi di una lista che è passata come argomento, devo essere sicuro di non perdere mai l'alias. E questa slide qua ci riassume quali sono le operazioni che posso fare su una lista che non modificano, non perdono l'alias. Mentre invece quelle che sono assegnazioni, valore uguale 7 e ovviamente mi perdono l'alias. Da quel momento in avanti non posso più fare riferimento alla lista di partenza. Allora, come posso fare questo algoritmo qua? Beh, lo potrò fare evitando di scrivere parole uguali. Devo trovare un altro modo in cui posso scrivere parole .append, posso scrivere parole .pop, .insert, parole di uguale, assegnare il singolo elemento, assegnare dei range. Quindi, ad esempio, tanto così, noi ce l'avevamo, potremmo usare questo qui, un altro algoritmo, oppure quell'altro algoritmo qua. Che già non ci piaceva perché stavamo modificando la lista su cui sta iterando, gne, gne, gne. Però aveva il vantaggio che se guardate lì, si chiama nomi, non c'è nessuna assegnazione nomi uguale, c'è nomi.pop. Quindi, se lo facciamo, prendiamo la seconda che era un strana, ma alla fine era più breve, semplicemente perché è più breve. Se al posto di questo io scrivessi questo codice qua, togliamoli i commenti, e a questo punto non è nomi ma parole. E lo indento giusto. Ah, qui devo indentarlo. Così. Quindi ho preso un altro algoritmo, che tra quelli che avevamo provato non ci piaceva tanto, ma comunque abbiamo visto che funzionava. E vedete che questo parole.pop messo qua è lo stesso parole che ce l'ha. Non viene mai ridefinito. Uso parole di per andare a cedere un elemento e leggerlo, conoscere il valore. Uso parole.pop per andare a chiamare il metodo pop dell'oggetto lista, che modificherà la lista, ma non modifica la variabile che uso per accedere alla lista. Sta tutta qua la differenza. Modifico la lista, ma non la variabile. Poi anziché 4 devo mettere soglia. Allora, eseguendo questo, se non mi sono sbagliato, funziona. Ok? Quindi ho usato un algoritmo alternativo che mi permettesse di non perdere il riferimento alla lista. Però dici, ma a me piaceva tanto questo. Non possiamo recuperarlo. Sì che possiamo recuperarlo. Purché riusciamo a mettere dentro la lista parole gli elementi di questa comprehension, di questa altra lista che abbiamo appena calcolato in questo caso, con la comprehension. Non andando a ridefinire la variabile, ma andando a ridefinire il contenuto della variabile. Ad esempio, trucco stupido, un range totale. Abbiamo visto, non l'abbiamo apprezzato nella sua potenza la volta scorsa, il fatto che io posso segnare non solo un valore, parole di 0, parole di 1, uguale, uguale, no? Posso segnare a una lista, a un range di una lista, un'altra lista. E cosa avevamo detto l'altra volta? Se io assegno un range di una lista, un'altra lista, sto togliendo gli elementi che c'erano e sto mettendo quelli dell'altra lista al loro posto. E quindi se l'altra lista è più lunga, si faranno spazio, se l'altra lista è più corta, si ridurranno, eccetera, ma andano comunque a sostituire gli elementi che prima c'erano in quelle posizioni. Allora io sto dicendo, senti, sostituiamo gli elementi che stanno in tutte le posizioni della lista, dalla prima all'ultima. Con cosa? Con gli elementi che stanno in quest'altra lista. Qui è vero che c'è un segno di uguale, ma non è uguale di parole, è uguale di un elemento, o meglio, di un range di elementi di parole. E cambia tutto, perché sto modificando un range di contenuti di parole. Non sto modificando la variabile parole. Allora, anche qua, se non ho sbagliato, andando in questa seconda variante, funziona. Ok? Quindi o vado a modificare i singoli elementi, col pop, con l'uguale, con l'inset, con l'append, quello che volete, oppure vado a rimpiazzare un elemento, un gruppo di elementi per volta, assegnando dei range, va benissimo. Ecco, questa sintassi, forse, sarebbe da aggiungere in questa slide qua, tra le cose che posso fare, non solo values di i, ma values di i2.j, cioè un qualunque range, e se, per modificare un gruppo di elementi, e se li voglio modificare tutti, rimpiazzandoli con gli altri nuovi, e faccio un range che li prenda tutti. Quindi devo fare particolare attenzione a non riassegnare mai la variabile per argomento. Perché? Perché tutto arriva da questa cosa qua, modificare gli elementi della stessa lista. Se invece avessimo voluto fare una cosa diversa, chiamiamolo rimuovi f2, sempre con le funzioni ma versione 2, io potrei volere invece costruire, voglio costruire una funzione che riceva come parametri, una lista ed una t string ed una soglia, ed un valore soglia, e restituisca una nuova lista che contiene solamente i valori, le stringhe più lunghe della soglia, di lunghezza almeno pari alla soglia. Oppure, se lo vogliamo dire in altro modo, una nuova lista che contiene gli stessi elementi di quella di partenza, tranne quelli più corti, più brevi della soglia. la funzione non modifica la lista di partenza. è un altro modo. Anziché di darti una lista dicendo modifichamela, ti do una lista e ti modifichamela per favore ma dammi una nuova che sia fatta così. Allora in questo caso mi serve ritornare un valore, restituire un valore, mentre prima abbiamo detto che la funzione non restituisce nulla, perché lavora sui dati che ti do. E in questo caso, fatemi dire, è più facile. Def rimuovi, sembra uguale, rimuovi, riceve sempre, come lo chiamate prima, parole e soglia, parole e soglia. E facciamo finta di voler usare questo primo, che poi lo vediamo con le comprehension, ma è un pochino più opaco. Questo primo algoritmo. Questo non lo posso più usare. Perché stopop va a modificare la lista originaria e qui c'è scritto che non la devo modificare. Allora, mentre prima dovevo fare attenzione a non perdere l'alias, qui devo fare attenzione a non modificare la lista con delle operazioni incaute sull'alias. E quindi ad esempio, un modo per farlo, vogliamo essere sicuri di non modificare la lista? Ce ne facciamo una copia e modifichiamo la copia. Quindi chiamiamo parole 2, uguale a lista di parole e tutto questo qua lo facciamo su parole 2. Quindi lavoro su una copia, modificando una copia, così non modifico la lista originaria. Poi dipende da cosa faccio. Se le operazioni che faccio non vado a modificare la lista, posso lavorare direttamente sulla lista originaria, se non faccio popo insert o append. Ma se faccio una di queste operazioni, allora, e mi hanno detto che non devo modificare la lista originaria, allora devo lavorare su una copia. List di parole crea una nuova lista mettendoci dentro gli stessi elementi. Da quel momento in avanti la vita di questa lista è disgiunta, separata, indipendente da quella della lista di partenza. E a questo punto, come ultima istruzione, ovviamente farò return parole 2. Perché altrimenti tutto il lavoro che ho fatto l'ho fatto su parole 2, che è una variabile locale di questa funzione, morirà insieme alla funzione quando la funzione termina, se non restituisco il chiamante. E quindi anche il programma principale cambierà un pochettino. Il programma principale non può essere più semplicemente chiamare la funzione rimuovi. Perché se chiama la funzione rimuovi, beh, avevo una lista, ho chiamato la funzione rimuovi che per contratto non modifica la lista e ovviamente se non me l'ha modificata alla fine me la trovo uguale. Ma dovrò assegnarla, che ne so, una nuova variabile, poi se voglio può essere la stessa variabile anche, non cambia niente, però il valore restituito, questa volta c'è un return, prima non c'era, quindi se avessi cercato di leggere il valore restituito l'ho fatto una volta per sbaglio, mi ha dato none, non c'è nessun valore restituito. Invece qua c'è un valore restituito che corrisponde a questa. Quindi ci sono questi due modi di lavorare diversi. A seconda dei casi dobbiamo sapere di gestire due, perché può servire uno, può servire l'altro. In un caso voglio modificare direttamente i dati che mi passano, allora devo fare extra attenzione a non perdere riferimento a quei dati. Nell'altro caso, più tranquillo, se vogliamo, più sereno, non vado mai a toccare i dati di qualcun altro, ma lavoro su dei dati miei locali e alla fine te li restituisco. Che essendo Python un linguaggio in cui restituire una nuova lista è facile come restituire un numero intero, spesso è preferibile. In altri linguaggi invece dovessi restituire un altro array, devo prima crearlo alla lunghezza giusta, allocarlo, poi chi è che lo disalloca e ci sono pasticci in più. Però è chiaro che facendo così sto copiando dei valori, copiando degli elementi, quindi forse un pochino più lenta l'elaborazione, ma stiamo veramente parlando di cose infinitesimali. Quello che è importante è come gestiamo questi valori e dobbiamo avere chiaro in testa bene in quale modello ci poniamo, una funzione che modifica i dati e non restituisce nulla o una funzione che non modifica i dati e restituisce il valore calcolato. Nel primo caso devo fare attenzione a non perdere alias, nel secondo caso devo fare attenzione a non modificare i valori puntati dall'alias e quindi eventualmente mi faccio delle copie, lavoro su delle copie locali. Tutti questi problemi li abbiamo solo, finora, solo con le liste, perché tutti gli altri diffidi dati sono dati immutabili e quindi non si pone problema. Non posso mutare, se ti passa una stringa, l'unica cosa che può fare una funzione con una stringa se la vuoi modificare è restituire una nuova, non può modificare la stringa stessa, non ci siamo mai posti questo problema, i numeri anche. Le liste, essendo modificabili, essendo mutabili, hanno questa problematica in più. Possiamo vedere, la problematica è brutta, questa opportunità in più, le possiamo gestire modificandole, facendole evolvere. Questo forse, di tutto il corso, è il punto che genera il maggior mal di capo, perché dobbiamo riuscire a fare un po' nostro un meccanismo abbastanza di basso livello, che è quello del passaggio degli alias e capire che implicazioni ha sull'algoritmo che stiamo scrivendo. Una volta capito, è più facile, perché a questo punto ci metteremo nel caso 1, nel caso 2, allora voglio modificare i dati, devo fare attenzione a questo, devo non modificare i dati, allora devo fare attenzione a quest'altro, e lavoro in modi diversi. So che c'è una ridondanza di metodi in Python proprio per questo motivo qua. Vi ho fatto vedere la volta scorsa, sul sito del corso, se ce l'ho ancora da qualche parte, tra il materiale, c'era questo prontuario con le funzioni, in cui proprio vi ho messo in fondo, sulle varie operazioni, quali sono le varianti che modificano il valore, quindi se io non voglio perdere l'alias, devo usare questo tipo di metodi, quindi insert, extend, se invece voglio creare un valore nuovo, per concatenare due liste, uso extend, oppure uso la concatenazione col più, nel primo caso modifico la lista, nel secondo caso ne creo una nuova, e quindi dipende proprio solo in quale dei due casi voglio mettermi, e ci sono i metodi per fare entrambe, tutte le operazioni in un modo oppure nell'altro. Sostituire tutti gli elementi di una lista con un'altra, abbiamo visto che un modo potrebbe essere quello di usare un range su tutta la lista stessa, chiamiamoli trucchi, quelle scorciatoie che vanno un po' a sfruttare le caratteristiche del linguaggio, ma se no si fa in altri modi, si può fare comunque. Ho detto, quindi su questo, poi faremo attenzione facendo esercizi, io consiglio sempre di usare le funzioni per riuscire a decomporre il codice, adesso a questo punto, usando funzioni e liste, dovrebbero questa cosa in più a cui fare attenzione. Vi ho detto che la caratteristica particolare delle liste è che sono mutabili, e quindi crea questi problemi, questa modalità di gestione. Esiste in realtà in Python anche una variante delle liste, che sono liste immutabili, che si chiama tupla, che si chiamano tuple. Quindi una tupla funziona esattamente come una lista, tranne il fatto che è immutabile la tupla, non i suoi elementi. Quindi posso creare una tupla, posso modificare un elemento di una tupla, ma non posso aggiungere elementi, non posso cancellare elementi. Perché questo implicherebbe modificare, siamo così, il rettangolino giallo, no? Quindi una volta che ho creato una tupla, che immaginiamo una lista in cui ho tolto tutte le funzioni per poterla modificare. Come si costruisce una tupla? Vabbè, anziché la parentesi quadra si usa la parentesi tonda per definire i suoi elementi. Quindi quando abbiamo una lista di elementi, lista uguale, aperta quadra, 5,10,15, senza che la parentesi quadra mettiamo una parentesi tonda, creiamo una lista immutabile che si chiama tupla. Tupla è una parola strana che è la generalizzazione già di coppia, tripletta, quadrupletta, n-upla, n-upla, anziché la n di n-upla c'è la t-t-upla. Poi in realtà dal punto di vista della sintassi le parentesi quadre sono anche opzionali, no? Quello che io dico come battuta è che è la virgola che fa la tupla, non è la parentesi. Quindi il fatto di avere delle virgole automaticamente crea un oggetto di tipo tupla, però secondo me è più chiaro metterle anche tra parentesi, anche per parallelismo con la sintassi delle liste. Cosa posso fare sulle tuple? Beh, tutto ciò che posso fare su una lista che non modifichi una lista stessa. Quindi posso accedere gli elementi per indice, 0, 1, 2, 3, posso iterarci con il for, posso creare una nuova tupla concatenando due tuple e ne crea per forza una nuova perché le due non le posso modificare, non c'è extend, non c'è append, non c'è insert, non c'è pop. Posso leggere, calcolare lunghezza, somma, massimo, ignoting, index, find, tutto ciò che c'è sulle liste, tranne le operazioni che le modifichano. E vabbè, fin lì uno dice ma impara le liste e ne hai abbastanza, va benissimo. Non siamo obbligati a usare le tuple quando i dati non cambiano, non ci interessa, anzi diventa difficile se tu dovessi leggere i dati di una tupla dal tastiera dell'utente, non ha senso mettere in una tupla perché ogni volta devi aggiungere un dato nuovo e non puoi, perché la tupla è bloccata quindi devi creare una nuova ogni volta, diventa scomodo. Il motivo per cui ne parliamo è che all'interno del linguaggio sono usate in modi strategici. Ad esempio, uno aveva già visto come abbreviazione la assegnazione multipla. Ora, minuti secondi, uguale, qui c'era mezz'ora fa abbiamo detto, metti più valori separati tra virgole e dall'altra parte dell'uguale metti più variabili separati da virgole. Ecco, quello che stiamo facendo in realtà sulla destra è costruire una tupla di questi valori e poi assegnare più variabili nella stessa operazione usando le tuple. Così come un altro trucco molto utile è sui valori di ritorno delle funzioni. Cioè, noi abbiamo detto, la funzione può ricevere quanti parametri vuole, def, funzione, aperta tonda e metti tutti i parametri che vuoi, 1, 2, 3, 7, ma il valore di ritorno è un valore solo, return, lista, oppure nessuno. Ma a volte potrebbe far comodo avere una funzione che restituisce più di un valore. Allora, si può, abbiamo visto che se si restituiscono le liste, allora se ho bisogno di restituire tre valori, nome, cognome, indirizzo, vi crea una lista in cui il primo elemento c'è il nome, nel secondo elemento c'è il cognome e nel terzo c'è l'indirizzo. Oppure, più comodo ancora, visto che è un oggetto che devo creare subito dopo distruggere, posso creare una tupla che contiene i valori che voglio restituire. Quindi, se è una funzione, tecnicamente si dice che in Python le funzioni restituiscono un valore solo. Praticamente, se io ho bisogno di restituire più valori in una funzione, restituirò una tupla che contiene i vari valori. E questa tupla la posso creare direttamente, anzi, normalmente la creo direttamente nell'istruzione, non gli do un nome. Return, mese, giorno, anno. Con le parentesi o spesso, quando c'è il return, si capisce cosa stiamo facendo, queste parentesi non si mettono neanche. Quindi, l'apparenza è che stiamo restituendo più valori da una funzione. Return x virgola y. Ah, guarda, stiamo restituendo due valori. Poi, in realtà, Python prende queste due cose, le mette in una tupla e restituisce il riferimento alla tupla. L'alias alla tupla. E va bene. Dall'altra parte, quando chiamo la funzione, questo valore lo vado poi a spacchettare e assegnare a più variabili diverse. Oppure, assegno una variabile sola e poi accederò al primo elemento, indice 0 o indice 1, per prendere il primo o il secondo elemento. Quindi, l'esistenza delle tuple facilita l'assegnazione multiple e il ritorno di valori multipli dalle funzioni. Per il resto si comportano come liste, se vogliamo proprio essere, diciamo così, pignoli e non voler dire questa variabile qua, non voglio che si aggiungano elementi o non voglio che si cancellino, la salvo come tupla, anziché come lista, ma è un caso forse meno interessante. Ok, e quindi a voi, se andiamo sempre a prendere il nostro prontuario, quello di prima, la colonna a fianco a quella delle liste è quella delle tuple, che vedete che, a parte la sintassica leggermente diversa, dove c'è una parentesi tonne al posto della parentesi quadre, ma per accedere ai singoli elementi, quello che succede è che mancano una serie di caselle, perché ci sono operazioni che sono vietate. E guarda caso, le caselle che mancano sulle tuple, se ci fate caso, sono le stesse caselle che mancano sulle stringhe, perché anche queste sono immutabili. C'è questo livello qua di coerenza. Ma tutte le operazioni che ritornano e restituiscono un nuovo valore, ci sono, perché creano una nuova tupla. Quelle che modifichano la tupla esistente, mi dispiace, le abbiamo cancellate. Ok? Quindi è proprio un dettaglio, ma operativamente poi le usiamo perché sono comode. Ok. Questo è quello che volevo un po' raccontarvi a completamento delle funzioni, e dopodiché, dove siamo? Volevo provare a fare con voi questo esercizietto, ma solo perché è curioso, e ci permette di giocare un pochino con funzione liste, proviamo almeno a impostarlo. avevo condiviso, era un post Instagram che avevo condiviso su Telegram, e poi ho detto, mannaggia, questo non lo possiamo ancora fare perché non sapevamo delle cose. Adesso invece abbiamo tutto ciò che ci serve per poterlo fare. Quindi è una proprietà matematica, di quelle inutili come tante, che dice che se tu prendi un qualunque numero di quattro cifre e gli fai questa cosa strana, e la fai tante volte, prima o poi arriverai a un numero sempre lo stesso al quale applicata questa operazione torni al numero di partenza, torni sempre allo stesso numero. Quindi arrivi a un punto fisso, in un certo senso, no? Da cui a questo punto non vai avanti. Allora noi vogliamo fare un programma in cui l'utente inserisca un numero, il programma stampi la sequenza dei valori intermedi e poi si fermi quando arriva a questo numero finale, che non mi ricordo quant'è, ma tanto abbiamo un programma che ce lo calcola. Ok? Allora questo qui è un programma che potremmo strutturare per funzioni. Cominciamo a ragionare su ciò che vogliamo fare e poi via via lo implementiamo. È chiaro, no? Cosa dobbiamo fare? Dopodiché ci sono delle cose un po' complicate, nel senso che questo numero a volte lo trattiamo come numero, a volte ci farà comodo trattarlo come stringa, tipo per rimescolare le lettere al suo interno, ma magari come lista. Quindi dobbiamo passare più volte da quel valore come numero, perché quando devo fare la sottrazione devono essere due numeri interi, quando invece devo rimescolare tra di loro le cifre, è più comodo che se sono come una lista, sotto forma di lista, perché è una lista al metodo sort, che mi permette di ordinare gli elementi della lista, che in questo caso saranno le cifre. Ma ci arriviamo per gradi, dai. Allora, cosa ci serve? Innanzitutto ci serve una serie di funzioni, andando in ordine, la prima funzione che mi serve, diciamo la prima funzionalità che mi serve, che decido di implementare come funzione, perché così è il codice più organizzato, è una funzione che legga il numero. Perché questo numero deve avere le caratteristiche particolari, deve essere esattamente, deve essere di quattro cifre, purché le quattro cifre non siano identiche. Quindi è un qualunque numero tra 0 e 9999, tranne lo 0, perché 0 è 0, tranne il 9999, ma tranne anche il 1111, il 2222, il 333 e così via. Però, quando ho detto un numero di quattro cifre, è che gli 0 sono sottintesi. Quindi il numero può essere 25. 0, 0, 2, 5. È lecito sì, perché le quattro cifre non sono tutte e quattro uguali. Quindi, si tratta di leggere un numero, ma per verificare se questo numero è valido o no, devo fare dei controlli che non sono banalissimi. Allora, per non incasinare il programma principale, l'argomento principale con questi controlli, tanto vale mettere una funzione. Definisco una bella funzione, leggi numero, che restituisce, legge un numero e restituisce un numero. Allora, questa funzione è scema, non fa niente, fa una input. In realtà è un primo abbozzo di quello che dovrà diventare una funzione che legge il numero, controlla se è giusto, se non è giusto me lo richiede, eccetera, eccetera. Controlla gli errori, controlla la validità del dato. Quindi, questa è una funzione grezza, in gergo si chiamerebbe quasi stub, cioè, una roba, divento un tappo, ma poi dopo ci penso dopo a cosa farci dentro. Ovviamente dovrò controllare la correttezza del numero ed eventualmente chiedilo più volte. Scusate, ho dimenticato un int. Quindi devo controllare che la stringa sia giusta, che sia un numero, insomma, tutta una serie di controlli che non sono roba intelligente, non sono cose difficili, sono cose un po' tipatiche, le facciamo dopo, adesso concentriamoci sul resto del programma. Mi sono messo una nota che poi dovrò farlo. Poi, l'operazione principale del programma qual è? È quella di sostituire a un numero, che ne so, 3812, i risultati di un'operazione. Quindi, da 3812 diventa 7083. Quindi, possiamo avere una funzione calcola che riceve un numero e restituisce un numero nuovo. Che è? Che cosa? È la differenza tra i due numeri fatti in modo strano, no? calcola, diciamo, calcola un passo, un solo step, un unico passo. Non è che calcola tutto, calcola un'unica elaborazione. Allora, questo nuovo numero n1 come lo calcola? è prendendo il numero n, calcolando l'equivalente del numero con le ordine, con le cifre decrescenti, qui diciamo così, nd sono il numero, cioè, cifre, sì, numero cifre decrescenti di n, numero nc sullo stesso numero con le cifre crescenti di n, quindi immagino di avere due funzioni che prendono il numero e me lo trasformano nel numero corrispondente in cui le cifre sono in ordine decrescente o in ordine decrescente rispettivamente e a questo punto la mia funzione restituisce semplicemente nd meno nc. Giusto? Sono che se funzioni non le ho e le dovrò scrivere, vabbè. Però faccio un passo del ragionamento per volta. Qui questa funzione sta implementando questo. questi tre passaggi prendendo dei numeri n interi e restituendo dei numeri n interi. Infatti faccio una sottrazione, la sottrazione si fa tra gli interi non tra le stringhe. Ok, e questo mi permette anche di scrivere il programma principale. il programma principale mi sto lanciandolo metto in una funzione che chiamo main cosa fa questa funzione? Legge il numero e poi ripete tante volte l'operazione di n uguale calcola uno step calcola step su n dentro un while che adesso ci ragioniamo sulla condizione. No, cosa fa il programma? Dice ogni volta prendi un numero applica questa trasformazione e vai avanti e magari stampami anche il numero che hai ottenuto. quando è che mi devo fermare? Beh, quando il numero che ho ottenuto nell'ultimo passo è uguale al numero che avevo ottenuto nel penultimo passo. Giusto? Perché vuol dire che da quel momento in avanti ripeterebbe all'infinito sempre i stessi valori. Allora, vado a controllare se l'n è diverso da alt n. E alt n cos'è? Beh, è il valore al passo precedente. Come faccio a sapere qual è il valore al passo precedente? Beh, me lo salvo prima di cambiarlo. Poi facciamo attenzione. Sì. Quindi, quando leggo il numero n prima di tutto me lo salvo dentro hold n che è il numero che ha inserito l'utente poi ricalcolo un nuovo n e questo nuovo n lo stamperò e poi torno al suo mi chiedo il nuovo n è diverso dal primo da quello precedente? Se sono uguali esco dal while. Se sono diversi continuo facendo cosa? Adesso prendendo quello che era il nuovo n lo faccio diventare quello vecchio e perché dovrò calcolare quello nuovo nuovo. Cosa manca ancora qua? Beh, poiché hold è una variabile che aggiorna in un ciclo devo inizializzarla prima dell'inizio del ciclo a un valore che magari metto zero che sia sicuramente diverso dal valore n che ha inserito l'utente la prima volta quando arrivo dentro entro col valore inserito dall'utente e zero sappiamo che non è un valore valido quindi questo è il programma principale in realtà se io eseguissi questo programma facessi run ma adesso non lo fa perché ci sono queste due funzioni che mancano e quindi mi dà errore no? No neanche scusate ho detto una cosa sbagliata non mi dà errore perché la funzione l'ho scritta ma non l'ho eseguita questo programma non sta facendo nulla perché cosa fa questo programma? definisce solo delle funzioni def 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 istruzioni eseguibili non ce n'è ok? ma è un buon modo ogni funzione ha le sue variabili lavora tranquillamente con le sue variabili e sono tutte funzioni pronte per essere chiamate quello che manca è un'unica istruzione una sola del programma principale che chiama la funzione main poi prossima volta con calma vedremo i vantaggi di strutturare le cose in questo modo quindi questo programma è fatto di un'unica istruzione alla 34 chiama main e tante funzioni che poi sulla loro volta si chiamano tra di loro ogni funzione avrà le sue variabili locali così non si danno fastidio l'un l'altra ho chiamato n tante volte ho usato sempre n ma ogni n è separato dalle altre tranquilli perché sono in funzioni diverse quindi se io adesso chiamassi main il programma parte e vedete che mi chiede il numero poi appena inserisco il numero ovviamente si blocca perché quando cerco di chiamare cifre decrescenti quando chiamo la funzione calcola step e la funzione calcola step a sua volta chiama cifre decrescenti dice senti caro però questo qua non l'hai definito e beh dobbiamo definirlo e allora definiamo cifre decrescenti di n cosa devo fare? allora io innanzitutto questa qui è un po' meno banale del solito quindi proviamo a spiegarla la funzione dato un numero n compreso tra 0 e 9 che abbia la proprietà che non tutti i numeri sono uguali dato un numero intero più in ora abbiamo lavorato come interi calcola e restituisce un numero intero costituito dalle stesse cifre messe in ordine decrescente ad esempio abbiamo detto se mi arriva il valore 73 diventa 7300 perché 73 lo devo pensare come 0073 e lo metto in ordine anche il 37 sarebbe la stessa cosa ovviamente lo devo sempre pensare su quattro cifre e dove non ci sono devo pensare degli zeri come faccio quindi l'argomento è riceve un intero e restituisce un intero allora questa operazione qua di mettere in ordine le cifre non è che sia agevole dal punto di vista aritmetico che cacchio faccio il logaritmo di però posso lavorare facilmente sulla rappresentazione del numero se io prendo il numero lo converto in stringa poi ho quattro caratteri quindi io potrei prendere fatemi pensare prendere il numero pensiamo con una replica n uguale mettiamone uno con quattro cifre prima poi il problema degli zeri ce lo poniamo dopo ok 4872 n potrei convertirlo in stringa come si fa convertire un numero in stringa con str cosa ci faccio con le stringhe niente perché le stringhe sono immutabili però a questo punto posso spezzettare le singole caratteri della stringa in elementi di una lista cioè posso creare una lista che sia fatta così adesso sto scrivendo a mano ma poi dobbiamo trovare modo di farlo giusto se ce l'avessi così poi faccio un sort e me li metto in ordine e poi dovrò fare passaggio inverso per rimettere insieme come intero no? quindi diciamo ns uguale n str di n la chiamo così questa variabile n underscore s n sotto forma di stringa no? ho calcolato questa n sotto forma di stringa adesso voglio costruire la sotto forma di lista posso usare la funzione list per costruire una lista noi abbiamo usato la funzione list per due cose o per costruire una lista vuota così o per costruire una lista a partire da un'altra lista ok? in realtà la funzione list è più generale di così come tutte le funzioni che fanno la conversione di dati costruisce una lista a partire da un qualunque contenitore e le stringhe sono contenitori quindi se io scrivo list e gli passo una stringa mi costruisce iter su questo contenitore che è una stringa la stringa è un contenitore di cosa? di caratteri e quindi mi crea una lista fatta con i singoli caratteri della stringa che culo perché è un'operazione che già mi fa la funzione list altrimenti quello avrei dovuto fare altrimenti avrei fatto un ciclo di due istruzioni in cui avrei fatto per ogni carattere for ch in stringa lista appunto appendici ch è uguale se uno non si ricordava non sapeva che questa cosa funzionasse così se lo fa con un ciclo il 90% delle scorciatoie di python alla fine si possono comunque ricondurre lavorando come se uno lavorasse in ciclo i cicli quindi abbiamo trovato il modo per prendere dal numero la stringa dalla stringa la lista quindi adesso a questo punto n underscore l sarà list di n underscore s n sotto forma di lista e quindi lo posso ordinare n underscore l punto sort mi scrive beh in questo caso crescente basta mettere il verso wallet true me lo mettete crescente sto ordinando una lista di string c'è differenza tra ordinare una lista di string e ordinare una lista di numeri sì in generale ma in questo caso abbiamo la garanzia che ogni elemento sia esattamente una sola cifra e quindi non c'è differenza in questo caso capisci se avessimo un elemento che è 12 l'altro elemento che è 3 se lo ordino come numero il 12 è maggiore di 3 se lo ordino come stringa il 12 è minore di 3 e quindi l'ordinamento lavora in modo diverso ma qui abbiamo la garanzia che ogni elemento della lista è una stringa di esattamente un carattere quindi che lo faccio ordinare come stringa o come intero cambia nulla altrimenti avrei dovuto fare cosa prendere nl e convertirla in un nl di interi non di stringhe come con un altro cicletto in cui costruisco un'altra lista facendo la int di ogni singolo elemento e quindi ho questa lista ordinata devo tornare indietro devo costruire una stringa di nuovo per poter poi convertirla in intero come faccio prendere una lista che ha tanti elementi e costruire una stringa unica che le mette tutte insieme o con un ciclo in cui con cateno oppure con la join se uso join della lista n come lista mi dà questo e una volta che ho questo se faccio int mi dà il numero e ho vinto quindi questi sono i passaggi che posso fare qua dentro quindi cifre decrescenti abbiamo detto ho il numero n lo converto in stringa dalla stringa la converto in lista n come lista la lista la ordino in ordine decrescente quindi quell'argomento è reverso uguale a true poi una volta che ho la lista ricostruisco la stringa di arrivo quindi n ns2 uguale n come stringa 2 la seconda quella di arrivo come facendo un join degli elementi della lista di n come lista e una volta che ho questa restituirò int di ns2 facciamoci un favore verifichiamo se funziona prima di usarla allora non chiamiamo ancora il main facciamo un po' di chiamate a quella funzione lì print com'è che si chiamava cifre decrescenti di 1-2-3-4 print cifre decrescenti di 8-2-6-1 mi stampa 4-3-2-1 8-6-2-1 è giusto ovviamente non funziona ovviamente non lo so funzionerà con il 16 cioè dove ci sono degli zeri no mi da 61 invece dovrebbe essere 6100 e invece se io avessi 106 cosa fa? 106 lo fa giusto perché lo 0 ce l'ha già e quando i 0 sono davanti che non va bene no? perché cosa capita se io do il numero 61 16 o 10 peggio ancora a 10 rimane 10 scusate certo non è peggio ancora 16 è sul crescente che 10 fa cose strane 61 perché? perché cosa succede che quando il numero è minore di 1000 la stringa avrà meno di 4 caratteri la lista avrà meno di 4 posizioni il sort mantiene lo stesso numero di elementi e quando faccio la join e quindi in realtà sto ordinando le cifre che ci sono ma non quelle che non si vedono quindi questa stringa questa l'errore è qua l'errore insomma la cosa da migliorare è qua ho un numero intero lo voglio convertire in una stringa che abbia sempre 4 caratteri indipendentemente dal numero che se il numero ha già 4 caratteri bene se ne ha di meno devo aggiungersi degli 0 a sinistra e un modo ci sono 17 modi diversi di farlo un modo è quello di dire prendiamo 4 zeri per buona misura li mettiamo davanti alla stringa e poi prendiamo i primi 4 caratteri questa è una situazione sulle stringhe non sulle liste stringa che avevo che può essere lunga 1,2,3,4 caratteri ci metto 4 zeri davanti e quindi avrò 0,0,0,0 e poi il numero sì poi è sbagliato scusate devo prendere gli ultimi 4 caratteri quindi da meno 4 alla fine questa roba qua è tutt'altro che leggibile questo codice qua l'abbiamo costruito insieme lo capiamo ma se no richiederebbe una serie di commenti perché chi entra qua dice che cacchio sta facendo questo è un modo l'altro modo è quello di usare l'f-string l'f-string tra i meandi delle opzioni di formattazione c'è quello di mettere davanti normalmente quando stampate un numero su 4 cifre se è il numero più breve ci mette davanti degli spazi ma potete chiedergli anche di mettere davanti uno 0 però vediamo se funziona questo e allora cifre crescenti sarà tutto uguale tranne il reverse l'altra sarà tutto uguale tranne il reverse uguale a false oppure non lo metto ma se vogliamo per maggior simmetria si chiamano così proviamo a eseguirlo allora c'è tutto togliamo queste print qua di prova facciamo partire il main vero numero 1 2 3 4 perché me lo metto l'acqua 1 2 3 4 e lì mi stampa che dopo 1 3 4 viene 3.087 8352 6174 e poi si ripete quindi si ferma se io metto se io metto il numero 5 mi dice che 4995 perché ce lo vediamo è 5 0 0 0 meno 0 0 0 5 e poi ci fa un passaggio un pochino più lungo ma alla fine arriva 6174 che è il numero magico che questo programma sta cercando di trovare a cosa serviva la condizione che i numeri non fossero tutti uguali? in realtà non è una vera condizione perché se metti i numeri tutti uguali al primo passaggio ti da 0 e 0 ritorna su 0 quindi in realtà è sbagliato no era sbagliato quel post che diceva qualunque numero tu prendi arriva lì ma attenzione che non devi prendere no la risposta è qualunque numero tu prendi arriva a un punto fisso di punti fissi ce ne sono due lo 0 a cui arrivo partendo da qualunque numero che abbia 4 cifre uguali e 6174 a cui arrivo partendo da tutti gli altri numeri della prima decina di migliaia non ho idea se sta cosa qua funzioni anche con 5 cifre o con 6 non lo so si potrebbe si fa in fretta a provare se volete ok quindi qua come dicevo è semplice questo programma perché l'abbiamo decomposto in funzioni immaginate di non averlo scritto come funzioni di avere questo codice qua e quest'altro tra l'altro che devono usare variabili diverse perché sono uno il numero crescente l'altro decrescente messi qua dentro al posto di questo calcolo la step con la sottrazione eccetera sarebbe diventato abbastanza facile perdersi nelle varie operazioni invece abbiamo ragionato top down passendo del problema decomponendolo e cerchendo capendoci a quel punto ci serve una funzionalità per riordinare i numeri scrivo che chiamo una funzione e poi la funzione ci penso a farla quindi la progettazione top down l'implementazione bottom up poi le singole funzioni le implemento una per volta le metto insieme le testo insieme quindi non testo subito il main testo le singole funzioni bottom up e poi alla fine avrò tutto insieme che funziona che quando va bene funziona ok allora buon laboratorio di oggi e domani vi ricordo della settimana prossima lo scambio di lezioni di cui abbiamo parlato all'inizio quindi avremo tutto mercoledì mercoledì grandi giornate di informatica alle 8.30 alle 11.30 alle 13 e il laboratorio del pomeriggio buon weekend and